Operazione top secret in casa a Barcellona, il club catalano avrebbe come obiettivo quello di portare Polpo Ba in Spagna. Si parla di un progetto a lungo termine, la colegia sarebbe affidata a Darío D'Obrai, da DS del Barcellona, visti i suoi buoni rapporti con il direttore generale della Juventus, Beppe Marot. Il club blaugrana infatti pensa a rafforzare il centrocampo, considerando che Savi è vicino ai saluti e prossimo a chiudere la sua carriera in Qatar. Per il Barcellona sarebbe la soluzione perfetta per Polpo Ba l'occasione di giocare insieme a Messi, Neymar e Suarez. L'unico ostacolo rimane blocco imposto ai blaugrana sul mercato, imposto dal TAS di Lausanne per la famosa vicenda dei tesseramenti di minorenni. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di comprare quindi la giocatore già nel mese in corso e portarlo al Camp Nou dal prossimo gennaio, quando non ci sarà più il blocco. Un ruolo fondamentale lo avrà l'agente del centrocampista francese Mino Raiola. Sarà bene non scavalcarlo per evitare di incappare nello stesso errore commesso da Zidane che ha preferito parlare direttamente con il nazionale francese. Pogba in questo caso dovrebbe rimanere alla Juve senza poter disputare poi la Champions League. Sarebbe il caso di capire cosa ne pensi quindi l'addiretto interessato di questa operazione top secret che a questo punto di segreto ha ben poco.